Pronto agli ordini dello start Partiti Imelda fa partenza per andare davanti Misueno si ritrae Blueberry ma la Sallussorio dall'esterno Sallussorio che va davanti su Imelda che si copre Capitan Segreto svelto in corda ma non c'è andatura, te raccheggiano tutti ammucchiata in mezzo al gruppo, vedete ci sono cavalli in terza e quarta corsia Sallussorio va davanti ma di passo poco più del canter, Imelda e Blueberry Wine vicini, Capitan Segreto è addirittura quarto, lui che non è sveltissimo e precede, Billy De Flegge con all'esterno vola alla profusione poi in corda a Misueno Sallussorio ha strappato il giusto per essere dov'è su Imelda e Blueberry Wine che precede Capitan Segreto e vola alla profusione Billy De Flegge, paledra scatenata in inferno Misueno in corda, il coda a restore Sallussorio prova allungare da Imelda e Blueberry Wine acquisisce un po' di vantaggio 600 metri deve farli per venire a casa Andrea Fele su Sallussorio il bianco e rosso di Franco Ferrucci inseguito da Imelda che all'esterno Blueberry Wine e poi Capitan Segreto sfilacciati gli altri perché la frazione è diventata importante Imelda si scopre all'attacco di Sallussorio in anticipo su Blueberry Wine su Capitan Segreto e Misueno, Imelda che passa su Sallussorio Blueberry Wine e Capitan Segreto da dietro si fa fatica ma era largamente prevedibile ci prova lo stesso Ristore che sta recuperando da vetrovie Imelda è in vantaggio su Blueberry Wine il Ristore che finisce forte ma è tardi Imelda che vince Dario Di Tocco per Francesca Turri Imelda Ristore Blueberry Wine se è valutato sulle migliori Imelda poteva avere qualche chilo in mano ma questo Gasparini è un mago per il quarto Misueno e Sallussorio vicini da dividere in fotografia vince però Imelda da Purme a Imelda si potrebbe dire così la due giorni di Sgasparini iniziata ieri a Milano e proseguita oggi a San Rossore niente da dire Imelda è andato in posizione ha sfruttato il treno di corsa e San Rossore lo ha aggredito quelli che sono andati nelle prime quattro posizioni Imelda è primo Blueberry Wine si è piazzato quarto quinto San Rossore l'unico che ha recuperato da dietro in maniera considerevole il Ristore ma era ultimo all'ingresso addirittura Capitan Segreto finisce col buono in mano ma con poco spazio Misueno recupera ma per il quarto e quinto posto questo è la finale tutto